Umit Karaman, fin dalla sua apparizione nella prima metà della terza stagione di Terra Amara, si è rivelata un personaggio cruciale. La sua entrata nella serie ha subito suscitato curiosità tra i fan, dato che la carismatica dottoressa sembrava nascondere segreti. Demir è stato immediatamente attratto da lei, nonostante fosse sposato con Züleya, con la quale non aveva un vero rapporto. Züleya, ancora legata al ricordo di Yilmaz, scomparso tragicamente, e Demir, che aveva inizialmente ostacolato il loro amore, mostrano un lato più umano e premuroso. Con il passare del tempo, Demir e Umit, divenuta capo del reparto di cardiologia a Sukurova, hanno iniziato una relazione segreta. Tuttavia, quando Züleya si è resa conto dei suoi veri sentimenti per Demir, lui ha scelto di tornare dalla moglie, lasciando Umit. Da quel momento, Umit ha rivelato una natura più sinistra, tramando contro la coppia insieme a Fikret, che poi ha abbandonato il piano di vendetta, mentre Umit ha proseguito. Il vero nome di Umit è Ayla, e in un tragico evento, tentando di sparare a Demir, ha accidentalmente colpito sua madre, Sevda, che si è sacrificata per Demir. Anticipazioni di Terra Amara per il 24 dicembre. Recentemente, nella serie televisiva Terra Amara, si è verificato un evento drammatico che ha lasciato gli spettatori in sospeso. Demir Yaman, uno dei personaggi principali, è misteriosamente sparito dopo un violento attacco alla sua tenuta. Questo avvenimento ha scosso profondamente tutti i personaggi della serie, creando un'atmosfera di incertezza e tensione. Nel prossimo episodio, che andrà in onda domani alle ore 15, la trama FA un balzo temporale di una settimana, portandoci direttamente dopo il ritorno a casa di Uzum, la figlia di Züleya e Demir dall'ospedale. Durante questo periodo, la famiglia Yaman ha dovuto affrontare la difficile realtà della scomparsa di Demir, cercando di adattarsi alla situazione e di mantenere la speranza di ritrovarlo. Mentre la tensione cresce, un altro sviluppo inquietante prende forma. Umid Karaman, il personaggio recentemente introdotto nella serie, insieme a Chumali, un altro personaggio chiave, escogitano un piano audace e pericoloso, rapire Adnan, il figlio minore di Demir. Questa mossa è destinata a creare ulteriori scompiglie e turbolenze all'interno della narrazione, mostrando fino a che punto Umid è disposta ad andare per raggiungere i suoi scopi. Il culmine di questi eventi avviene durante un confronto carico di tensione tra Züleya e Umid. In una scena carica di emozioni e colpi di scena, Züleya, spinta dall'angoscia e dalla disperazione causate dagli ultimi avvenimenti, finisce per sparare a Umid. Questo atto rappresenta un punto di svolta significativo nella storia, segnando un momento di rottura e di drammaticità che influenzerà profondamente le dinamiche future dei personaggi e il corso degli eventi. La sparizione di Demir, il piano di rapimento di Adnan e il confronto tra Züleya e Umid sono elementi che promettono di tenere ghiai spettatori incollati allo schermo, ansiosi di scoprire come si evolverà questa complessa rete di eventi. Il destino di Demir, il risultato del piano di rapimento e le conseguenze dell'azione di Züleya, sono tutti interrogativi che tengono ghigli appassionati della serie in attesa, dimostrando ancora una volta l'abilità degli sceneggiatori di Terra Amara nel creare una narrazione avvincente e imprevedibile. Nella trama sempre più avvincente e misteriosa di Terra Amara, un nuovo sviluppo ha catturato l'attenzione degli spettatori. Fikret Fekeli, un personaggio forte e complesso interpretato magistralmente da Furkan Palali, viene a conoscenza di una notizia sconvolgente grazie a Züleya, la protagonista femminile della serie. Züleya, Jlai, racconta con grande emozione e turbamento di un evento tragico, l'omicidio di Umid, un personaggio chiave nelle recenti vicende della serie. Questa rivelazione porta Fikret, insieme ad Ali Rahmet, un altro personaggio importante nella serie, a indagare sulla scena dell'incidente. Questa scena diventa cruciale nell'episodio, poiché la scoperta che fanno è totalmente inaspettata e cambia completamente la prospettiva della storia. Né il corpo di Umid né la pistola con cui sarebbe stata uccisa si trovano sul luogo. Questo dettaglio crea una serie di domande e teorie tra i personaggi e gli spettatori. Cosa è realmente successo a Umid? È possibile che sia ancora viva? O c'è un altro piano più sinistro dietro la sua scomparsa? Questa situazione imprevista porta Fikret e Ali Rahmet a considerare diverse possibilità e a indagare più a fondo. Forse qualcuno ha rimosso il corpo e l'arma per nascondere le prove, o per proteggere qualcuno. O, in un'altra svolta sorprendente, potrebbe essere che Umid sia scappata, architettando la sua scomparsa come parte di un piano più grande e misterioso. La tensione sale mentre i personaggi cercano di mettere insieme i pezzi di questo puzzle complesso. Gli spettatori sono portati a chiedersi chi sia davvero Umid e quali siano le sue vere intenzioni. Questo mistero aggiunge un altro livello di intrigo alla già ricca trama di Terra Amara, stimolando la curiosità e l'interesse del pubblico. L'annuncio che la verità verrà rivelata nei prossimi episodi, a partire dall'inizio del 2024, tiene gigli spettatori sul filo della tensione. Ogni episodio porta nuovi indizi e sviluppi, facendo avanzare la storia in direzioni sempre più imprevedibili. Gli spettatori sono impazienti di scoprire come si evolveranno questi eventi e quali sorprese riserverà la serie nei prossimi episodi. La domanda su cosa sia realmente successo a Umid e le implicazioni di questa scoperta per il futuro, dei personaggi di Terra Amara continuano a tenere gli spettatori incollati allo schermo, ansiosi di scoprire ogni nuovo sviluppo. La scomparsa di Umid in Terra Amara ha lasciato gli spettatori con molte domande e teorie. Una delle ipotesi più intriganti riguarda Hakan. E se fosse stato lui a salvare Umid? Questa possibilità apre un nuovo capitolo di speculazioni e misteri nella serie. L'ipotesi che Hakan possa essere intervenuto in qualche modo emerge come una delle teorie più affascinanti. Forse Hakan, avendo i suoi motivi, potrebbe aver aiutato Umid a scomparire. Questo solleva ulteriori interrogativi. Qual è la relazione tra Hakan e Umid? Quali sono le vere intenzioni di Heikan? E come si inserisce tutto questo nel contesto più ampio della storia di Terra Amara? Mentre queste domande rimangono senza risposta, gli spettatori iniziano a considerare altre possibilità. Forse Umid ha messo in scena la sua morte per sfuggire a una situazione pericolosa o per attuare un piano più grande che ancora deve essere rivelato. Potrebbe anche essere che qualcun altro, un personaggio ancora sconosciuto o uno già noto, sia intervenuto per aiutarla o per manipolare gli eventi a proprio vantaggio. Tutte queste congetture aggiungono un livello di suspense e mistero alla serie. Gli spettatori sono costantemente al lavoro, cercando di unire i pezzi del puzzle, mentre gli sceneggiatori di Terra Amara continuano a tessere una trama complessa e avvincente. Ogni nuova puntata potrebbe portare una svolta o una rivelazione che cambia completamente il corso della storia, mantenendo il pubblico in un costante stato di aspettativa. In conclusione, la domanda su cosa sia realmente accaduto a Umit e il potenziale ruolo di Hakan in questo mistero rimangono al centro dell'attenzione. Gli spettatori aspettano con ansia le prossime puntate, sperando di trovare risposte a questi interrogativi. La possibilità che Umit sia ancora viva e le implicazioni di questa eventualità per tutti i personaggi coinvolti rendono Terra Amara una serie da non perdere, piena di colpi di scena e di suspense. Ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un like al video per non perdere le prossime anticipazioni su Terra Amara.